L'11 gennaio 1943 a New York, con un colpo di pistola alla schiena, venne assassinato Carlo Tresca. A 70 anni dalla morte del sindacalista antifascista, Sulmona, a sua città d'origine, rende omaggio alla monumentale figura di Tresca, con una serie di iniziative dedicate alla sua memoria. Si parte venerdì 11 gennaio con la deposizione di una corona d'alloro al monumento dedicato a Carlo Tresca, nella piazza che si trova all'ingresso della villa comunale. Successivamente, presso l'auditorium dell'Agenzia di Promozione Culturale, gli attori della compagnia Arianna leggeranno alcuni brani tratti da una ipotetica chiacchierata nella redazione del giornale Il Martello, di Concettina Falcone Salvini, e il duo La Viella del Vecchio eseguirà dei brani per accompagnare la reading. Sabato 12 gennaio il Centro Studi e Ricerche Carlo Tresca di Sulmona, in collaborazione con la CGL, terrà un convegno storico sull'importanza della figura dell'anarchico sulmonese. A relazionare saranno Mauro Canali, dell'Università di Camerino, Martino Marazzi, dell'Università di Milano, e Francesco Susi, dell'Università Roma 3. Nel corso del convegno sarà ripresentata la ristampa del libro Who Killed Carlo Tresca, edito nel 1947 dal Tresca Memorial Commit di New York. Tresca lasciò Sulmona quando era molto giovane per trasferirsi in America, ma furono proprio gli anni giovanili a formare il sindacalista, che a Sulmona si avvicinò alle lotte per i lavoratori delle ferrovie. Fu segretario di settore della Federazione dei Lavoratori Italiani nelle Ferrovie e editore del quotidiano Il Germe. Lasciò l'Italia nel 1904 in seguito ad una condanna che gli era stata inflitta per la sua attività politica. In America, Tresca proseguirà le sue battaglie per l'affermazione dei diritti dei lavoratori e la lotta contro il fascismo.